Dopo la pausa di due giorni torna il mondiale di calcio, scattano i quarti di finale, si comincia con Francia-Germania. In serata alle 22 la sfida del Centro America, Brasile-Colombia, Neymar in campo. Ancora inaccertezze sul futuro della nazionale azzurra di calcio dopo le dimissioni revocabili del Presidente federale, probabilmente il nuovo Citi ad agosto.